Un caro saluto da Francesco Samani Oggi desidero parlarvi di un pensatore, scrittore, di un avviso molto importante Io ve lo pronuncio in inglese, vi scuserete se la pronuncia non sarà perfetta È di Daryl Carnegie Scritto in italiano D'Ale Carnegie E in questa rubrica, in questa diretta in cui desidero parlare in particolare di un suo libro Come trattare gli altri e farsene amici Desidero parlare di questo libro perché è molto quotato, è molto letto È stato letto da grandi menti, da grandi pensatori Ed è stato considerato da molti un punto di riferimento A qui potete vedere insomma un'immagine dello scrittore E ho preso per voi due frasi Due frasi importanti Ce ne sono veramente tante Che si possono estrapolare dal libro Che però desidero leggere Poi eventualmente potrete fare delle valutazioni Delle osservazioni Allora una delle peggiori tragedie dell'umanità È quella di rimandare il momento di cominciare a vivere E qui secondo me ovviamente si riferisce alla Cioè ci dobbiamo concentrare sul significato dell'esistenza E sul significato di vivere Perché ovviamente da un punto di vista biologico Per tutti scorre il tempo Per tutti invecchiamo Tutti abbiamo esperienze Però rimandare il momento di cominciare a vivere Ovviamente è centrato sul fatto Sul significato della vita Cioè che cosa significa veramente vivere E continua Sogniamo tutti giardini incantati Al di là dell'orizzonte Quindi abbiamo delle utopie Dei desideri molto grandi E non ci godiamo la vista di quello che abbiamo Cioè non apprezziamo tutto quello che è già in nostro possesso Invece di goderci la vista dell'aiole in ore sotto le nostre finestre Quindi siamo sempre alla ricerca di un qualcosa Io aggiungerei che siamo nella nostra società Arrivati in un periodo di volere tutto e subito Di non sapere più aspettare E quindi adesso non basta più Arrivare ad avere delle bellissime aiole Che subito ne vogliamo delle altre Un'altra frase a mio avviso molto significativa E questo autore ricorda che la felicità non dipende da chi sei Anche se qui poi sarebbe bello anche prendere Dal punto di vista dell'esistenza Dal punto di vista del significato di essere Sarebbe bello anche ampliare Il valore dell'esistenza Facendo riferimento anche ad altri pensatori A me ad esempio viene in mente Freud, Jung Ma anche From Il quale ha scritto dei libri molto interessanti Per esempio essere o avere E da avere ad essere Ricorda, ritorniamo al nostro autore Ricorda che la felicità non dipende da chi sei O da ciò che hai E dipende da ciò che pensi Quindi la centralità del nostro pensiero Come pensiero creatore Quello che noi pensiamo Attiva delle sinapsi E attiva delle reti mentali Che possono avvicinarci alla felicità E ovviamente possono anche allontanarci dalla felicità Quindi ovviamente la centralità del nostro pensiero Inteso come sia a livello qualitativo Sia a livello quantitativo Sia a livello specifico Cioè ovviamente Il pensiero non è inteso solo come quantità di dati O qualità di dati Perché il pensiero potrebbe anche Durante una meditazione ad esempio Potrebbe anche annullarsi Potrebbe anche annullarsi la volontà e il desiderio di giudizio Ma si potrebbe raggiungere una situazione Nella quale rimaniamo indifferenti A livello di giudizio nei confronti di ciò che accade E osserviamo la realtà Cioè cerchiamo di sintonizzarci Con l'equilibrio della vita stessa E allora ecco che Quello che noi pensiamo Ovviamente queste sono frasi molto belle Molto profonde Però che ovviamente poi rimandano La prima rimanda al significato della vita La seconda rimanda Sicuramente l'obiettivo è la felicità Però rimanda Alla valutazione del pensiero Che noi possiamo avere Questa è la È una mia introduzione A questo determinato libro Poi vi darò anche Mi avete scritto dei commenti Dei miei amici mi hanno scritto dei commenti E tengo anche Ci verrò a leggere anche Il pensiero di vista di altre persone Così da allargare Questa diretta Ad una visione più ampia Che non è quella di una sola persona Ossia io Ma quella insomma di una Un insieme di persone Che ovviamente questa visione Potrà avere la possibilità di arricchirsi Conseguentemente poi al fatto Della vostra interazione Perché ovviamente Potete aggiungere e arricchire Il messaggio Che cerco di mandarvi È giusto fare una premessa Perché alcuni di voi Potrebbero chiedersi Come mai adesso Francesco non Da un po' di giorni Non fa video Sulla preparazione al concorso Bene Io non sono L'ho detto Da sempre Ci tengo sempre Ci tengo tantissimo Alla Coerenza Non sono uno youtuber Ho Creato video E continuo a farli Delle dirette video Perché i miei video Ovviamente non sono Montati Non ci sono delle parti Che elimino Tutto quello Che avviene Durante queste registrazioni Viene pubblicato Non ci sono prove Non ci In realtà Ecco Si Entro in diretta E Sembra brutto Il termine improvvisazione Perché sembra quasi Che tutto sia lasciato al caso Ovviamente È un'improvvisazione Legata A La mia Il mio tentativo Di Sintonizzarmi Con quello Che Vi dico Allora Questo libro Ripeto È stato considerato Da tanti Un libro Veramente Importante Che può aiutare Insomma La crescita Anche personale Ed è anche interessante Vedere il titolo Del libro originale How To Win Friends Ovviamente Già Vediamo La differenza Il raggiungere un amico Diventa quasi una vittoria And Influence People People Qui Alcuni Potrebbero Perturbarsi Perché sembra quasi Che ci sia la volontà Come Influenzare la gente Quasi Di manipolazione Una volontà manipolatoria Di manipolazione Delle persone E vi dico che A mio avviso Assolutamente Non è così Anche perché Qualcosa Che viene venduto E viene dato a tutti Non è un tentativo Di manipolare tutti Assolutamente Ma è un tentativo Di comprendere Come Funziona La nostra mente E come funzionano I rapporti sociali Tutto questo Poi si lega Sicuramente All'intelligenza emotiva A Goleman A Gardner Tutto questo Si ricollega Alla fine Alla vita È un libro Che è stato pubblicato Per la prima volta Nel 1937 Però L'edizione Che si trova In commercio Non è Non è del 1937 È stata Ha avuto Una tiratura Iniziale Di 5.000 copie Che sono state Vendute subito Quindi Già Alla pubblicazione Ci fu un grandissimo Stupore Perché il libro Rivelò un grandissimo Successo E Si è guadagnato Nel corso degli anni Una Una posizione Di tutto rispetto Nella storia Dell'editoria Come uno dei best seller Internazionali Di tutti i tempi Probabilmente Ha raggiunto L'apice Della fama Dal 1980 E La frase Insomma Il titolo del libro È diventato Molto famoso In tutto il mondo È stato tradotto In quasi tutte le lingue Del mondo Quindi È patrimonio Si potrebbe dire Dell'umanità È ovviamente È stato rivisitato Tante volte Perché Nonostante Nonostante Un libro Di successo L'autore Desiderava sempre Potersi migliorare Quindi Questo autore Era un Istancabile È bello anche Parare Della persona Era un Istancabile Revisore Revisore E quindi Continua a Perfezionare Tale libro Per tutta la vita È morto L'autore Nel 55 E Questo autore Si migliorò E continuò Ad affinare I propri metodi Di insegnamento Aggiornandosi Continuamente Relativamente Alla propria Esperienza E aggiornando Anche il libro Migliaia di persone Hanno frequentato I corsi Di questo autore Migliaia di persone Hanno letto E studiato Questo libro E Veramente Si possono Imparare Tutte cose Desidero Condividere con voi Alcuni commenti Che mi sono arrivati Commenti anche Di persone Che all'inizio Del libro Erano scettiche Perché Il titolo Potrà Ringanno Infatti Scrivo adesso Delle Frasi Più Importanti Ero Scettico Il titolo Del libro Mi aveva fatto Storcere Il naso Però Al tempo stesso Poi Chi ha letto Questo libro Si è reso conto Di ricevere Un elenco completo Di consigli E di modi Di porsi Verso il prossimo Utili Per Per diminuire I problemi Con le persone Con i colleghi Di lavoro Consigli Che possono Essere usati Con chiunque E possono Essere Personalizzati Secondo Il proprio Buonsenso Quindi Io direi Che sono Queste Io cerco adesso Di sintetizzare Quello che dite voi Sono dei consigli Di vita Consigli di vita Che aiutano A rispondere A tante problematiche Che quest'ultima Ci presenta Che la vita Ci presenta Non si tratta Assolutamente Di manipolare Nessuno Si tratta Invece di Comprendere Di avere Consapevolezza Di come partire Col piede giusto Con chiunque Ci possa capitare E' un libro Che va Letto e riletto Leggere E' un libro Da rileggere Ossia Dopo svariate volte Che viene letto Ci si potrà rendere conto Degli errori passati Cioè Il libro ovviamente Contiene tanti messaggi Questi messaggi Bisogna andarle a cercare Non è Che basta Una lettura veloce Superficiale Per fare Questi messaggi Proprio Per metabolizzare Quello che L'autore Cerca Di dirci E abbiamo Abbiamo anche La possibilità Di capire come mai In quell'occasione E' andata In un determinato modo E magari Siamo rimasti frustrati Cioè Non è andata Secondo le nostre Speranze Sorridi 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 alla vita E fai complimenti E fai complimenti Agli altri Anziché critiche Sorridere E' un modo Di fare comunicazione Non verbale E' un modo Di partire Con il piede giusto Come dire Vengo in pace Fare i complimenti Serve per aiutare Che abbiamo davanti Per aiutare Il nostro interlocutore Per far capire Che siamo riconoscenti A tutti coloro Che desiderano Condividere Le nostre esperienze Che desiderano Apportare qualcosa Che desiderano Mettersi in gioco E quindi Possiamo mettere Gli altri In una situazione Più propensa Ad aiutarci Anche in un futuro Questi sono alcuni Dei consigli Che vengono dati Nel testo Relativamente Al buonsenso Occorre anche Sapere Come e quando Usare questi consigli E con chi Come Cosa Quando Chi Sono domande Che ci dobbiamo porre Per Poter interagire Con gli altri In maniera Positiva E poter Cogliere L'attimo Perché Siamo tutti Diversi Non tutti Viaggiamo Nella stessa Maniera Non ci sono Delle regole Ho degli assiomi Validi per tutti Ma tali regole Vanno personalizzate Sono dei consigli È necessario È necessario Il proprio buonsenso Non sono tecniche Da mettere in atto Così La leggera La leggera Poi Facile a dirsi Difficile a farsi È difficile rompere 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 I Propri Schemi Mentali Questo a livello Neurobiologico Siamo portati A ripetere Le nostre convenzioni Potrei citarvi Alcune parti del libro Però Preferisco Fare una sintesi Nelle realtà Siamo portati A comportarci Come siamo Soli di fare A volte Abbiamo bisogno Dell'errore Per capire Il vissuto Relazionale A volte Abbiamo bisogno Di tempo Per acquisire Autocontrollo Abbiamo bisogno Di tanto tempo Tanta forza E tanto dolore Per cambiarci E per cambiare I rapporti Interpersonali Abbiamo bisogno Di Bagliare Non vedetelo Come un atto Masochistico O satico Abbiamo bisogno Di soffrire Poi se non è chiara Questa frase Posso Tornarci Potete scrivermi Dei commenti E' un libro Ricchissimo Di esempi pratici Secondo me Non è una cosa Da poco Cancelliamo Qualcosa Facciamo così Faccio prima Ok E' un libro Ricco Ricco Di esempi E questo ci aiuta Ovviamente A comprendere meglio Quello che l'autore Desidera Condividere con noi Potrebbe sembrare Un libro Tra virgolette Potrebbe sembrare Un'americanata Un libro In stile Di programmazioni Neurolinguistica Invece E' un libro Che parte Dall'analisi Di diverse persone Di successo Analizzando Le prassi Comunicative La comunicazione E la relazione Con gli altri Cercando di capire Come modificarle Per arrivare Al successo E' molto utile Per tutti coloro Che hanno voglia Di relazionarsi Con gli altri Senza sensazionalismi O strategie Manipolatorie E' un libro Che fornisce Strumenti indispensabili Per saper comunicare Al meglio E' un libro quindi Che capisce L'importanza Della comunicazione Che ci permette Ovviamente Di rinnovare Come ho già detto Precedentemente I nostri schemi Mentali Ridefinendo Il proprio pensiero Prima di reagire Quindi prima di avere Una reazione La reazione Spesso è istintiva L'azione Invece E' qualcosa Di immediato Qualcosa Che viene Ricondotto Alla Al nostro Intervento Alla nostra Autenticità Il linguaggio Inoltre Che usa Nello scrivere E' piacevole E' dispersivo E' semplice Quindi Non è un manuale Faticoso Da leggere E' diviso In parti Solo per Vi cito L'indice Prendo Il libro Non mi ricordo L'indice A memoria Diviso In quattro parti La prima E' composta Da Non siamo in rosa Uno Due Tre Quattro Tecniche Per trattare Con la gente Poi diviso In sottocapitoli In questa parte Questa prima parte Vi sono i sottocapitoli Se vuoi prenderti Miele E non tirar calci All'alveare Il grande segreto Per trattare Con la gente E Chi mi seguirà Avrà il modo Dalla sua Chi non lo farà Caminerà solo In un deserto Il secondo La seconda parte E' relativa Al Sei modi Per farsi Ben volere Come essere Ben accolti Ovunque Modo semplice Per fare subito Buona impressione Se non seguite Questo consiglio Avrete dei problemi Un modo facile Per diventare Buoni Conversatori Come suscitare L'interesse Della gente Come riuscire Subito Sempatici Alla gente E ancora La terza parte Come convincere Il prossimo A condividere Le vostre opinioni Ok Come Convincere Il prossimo E qui Vengono analizzati Esempi Come impossibile Avere la meglio Con la discussione Come farsi Sicuramente Dei nemici E come evitarlo Consiglia Di Attuare Di comprendere Se abbiamo Torto E di ammetterlo Ci parla anche Del segreto Di Socrate Ci descrive Una valvola Di sicurezza Per far fronte Le lamentele Degli altri Le lamentele Continue Delle persone Non so Quante volte Ci capita Iniziare Una conversazione Di ascoltare Solo I lamenti Delle altre persone Come riuscire A ottenere Collaborazioni Dei nostri simili Poi Vi è un'ultima parte Relativa A come essere Un leader Ed è una parte Relativa A come far Cambiare Opinione Agli altri Senza offendere E suscitare Risentimenti E quindi Dà anche Dei consigli Se proprio Si deve Criticare Un difetto Ecco come Cominciare Come criticare Senza farsi odiare Parlare Dei propri Errori E difetti Questo è anche Difficile A nessuno Piace sentirsi Dare degli ordini Quanto è vero Permettere Agli altri Di salvare La faccia È importantissimo Come Sfronare La gente Al successo E questo È un atto Nobile L'importanza Di una reputazione Da difendere È qualcosa Di verissimo Soprattutto nel lungo termine Fate in un modo Che ogni errore Sembri facili Da correggere Perché anche Problem solving Vuole la sua parte Fate in modo Che la gente Sia contenta Di fare Quello Che le chiedete È una collaborazione Attiva E di successo Bene Siamo arrivati Quasi alla fine Allora Io vi ricordo Che Se vi è piaciuto Il video È veramente Importante Il fatto Che vi Possiate iscrivere Il fatto Di poter Partecipare Attivamente All'interno Di questo Canale E di essere Aggiornati Attivando la Campanella Tutte le volte Che usciranno Nuovi video Se ti è piaciuto Il video Ricorda Di mettere Mi piace Siamo arrivati A un 30% Di iscritti Significa che Su oltre 10.000 persone Iscritte In realtà Siamo 30 40.000 A seguire Costantemente Il canale Abbiamo un indice Di mi piace Del 99% Significa che Ovviamente Questo indice È salito Nel tempo Perché Si è fatta Una selezione Alcune persone Non gradivano L'impostazione Culturale L'impostazione Dialettica Data Volevano Il tutto E subito Volevano Un video Di spettacolo Un video Pieno di Effetti speciali Un video Che potesse In 3-4 minuti Di video Che potessero In 3-4 minuti Esprimere Tutti i contenuti Non è stato così Infine Ce ne sono sempre tanti E io Mi impegno A rispondere Sempre a tutti Via la parte Che mi piace di più La parte dei commenti In cui tutti voi Potete scrivere Quello che volete E potete interagire Con me E tra di voi Inoltre Via qui La parte Per poter condividere Il video Se vi è piaciuto Io Con questo Vi saluto E vi auguro Un buon proseguimento Di giornale